Teodoro, voi denunciate una mancata rotazione di alcuni lavoratori di Pescara a parcheggi che sarebbero in pratica senza lavoro da diversi mesi. Il perché di questa situazione come si può spiegare? Non sappiamo le ragioni, abbiamo ascoltato le ragioni dei dipendenti. Speriamo mercoledì di poter ascoltare le ragioni dell'azienda. L'unica cosa che ci suona un po' strano è, come i dipendenti ci hanno raccontato, loro sono fermi da dieci mesi a differenza di altri che hanno avuto una rotazione del lavoro e in più ci sarebbero anche nuove assunzioni, per cui vorremmo chiedere ai vertici della società se tutto questo risponde al vero e capire le ragioni del perché questi due dipendenti che lavorano e hanno lavorato per circa 7-8 anni senza avere mai lettere di richiamo, senza avere nessun sollecito da parte dell'azienda ma con grande professionalità oggi sono stati messi da dieci mesi fuori dal regime lavorativo. Si potrebbe creare un contenzioso giudiziario simile a quello che da alcuni mesi stanno portando avanti gli ex interinali di attiva? Questo non so rispondere perché non conosco giuridicamente i contratti, non conosco tecnicamente la procedura per cui non saprei rispondere, ho visto che c'era un legale qui portato dai dipendenti, sarà il legale che deciderà cosa fare nel futuro.